Ciao Farantubers! Oggi io e Jessie J abbiamo le nostre previsioni per la League On. Rimanete con noi per scoprire chi sono i nostri campioni in questi incontri e nei commenti fateci sapere i vostri, che come sempre siamo molto curiosi di leggerli. Il primo scontro è tra lo Strad René e il Nizza. Nonostante le squadre non stiano vivendo la miglior stagione, il René sa che ha disperato bisogno di questa vittoria. Al momento si trova al sesto posto della classifica, a soli tre punti della zona Europa per la prossima stagione, e non perderanno l'occasione di avvicinarsi al loro obiettivo. Sarà una partita intensa ed emozionante. Passiamo subito alla nostra seconda previsione, Lille contro Ramos. Lille si trova al quinto posto della classifica in una posizione europea molto importante e sanno che ogni punto conta se vogliono assicurarsi un posto per la prossima stagione. Per questo motivo la nostra previsione è la vittoria del Lille per un gol contro Ramos. Questa partita sarà una vera e propria battaglia, con entrambe le squadre che lottano con tutte le loro forze per ottenere la vittoria. Tuttavia Lille però ha il vantaggio di giocare in casa. La nostra terza previsione del giorno è la squadra di Marsiglia e Lens. Questa partita sarà una vera battaglia, poiché si scontreranno la seconda e la terza posizione della classifica. Anche se Marsiglia giocherà come ospite, ha una grande striscia di imbattibilità negli ultimi dieci incontri in tutte le competizioni, il che la rende una squadra molto pericolosa. Inoltre ha un impressionante record di imbattibilità negli ultimi cinque incontri in tutte le competizioni e per questo io prevedo la sua vittoria. Ti vedo molto sicuro Frank, mi piace. Il prossimo incontro sarà tra Paris Saint Germain e Troyes. Nonostante il Paris Saint Germain giochi come ospite, ha una squadra impressionante con una grandissima quantità di talenti che lo rendono favorito per vincere questa partita. Inoltre ha un impressionante record di imbattibilità negli ultimi otto incontri in tutte le competizioni con il loro avversario. Per questo motivo prevede una vittoria del Paris Saint Germain. Io sarò sicuro ma vedo che anche te Jesse hai le idee molto chiare. Infine per concludere abbiamo la partita di Nantes contro lo Strasburgo, una partita che sarà sicuramente piena di emozioni, cruciale per entrambe le squadre, poiché si trovano vicine alla zona rossa della classifica e hanno bisogno di guadagnare punti per allontanarsi da essa. Anche se sarà una partita molto complicata, crediamo che il Nantes porterà a casa la vittoria grazie alla sua grande lotta e determinazione. Inoltre giocano in casa e avranno supporto dei loro tifosi, il che darà a loro un grande vantaggio. Per questo motivo la nostra previsione è la vittoria del Nantes con due gol. E qui finisce il video Farantubers. Se vi è piaciuto non dimenticate di mettere un mi piace e di condividerlo con i vostri amici. E cosa più importante non scordatevi di farci sapere le vostre previsioni che sotto nei commenti. E per oggi è tutto, ciao Farantubers, alla prossima!